Perfetto Ho spostato la barra di trasmissione Stavo controllando se potevo migliorare qualcosa Ah, questo C'è qualcosa? C'è qualcosa? C'è qualcosa? C'è qualcosa? C'è qualcosa? C'è qualcosa? Il segno di snatch Eh, il segno di snatch Ah, vediamo Dopodichè Passiamo alla consegna dei doni Informenti, 2 o'clock Dammit, si stanno arrivando Miguel, Emily, stiamo tornando Non posso, non posso andare più Voi, combina, è solo un po' più Siamo tutti tornando a casa Sì, siamo tornati a la fronte Dopodichè, voglio assicurare che Siamo iniziare a andare con un po' più Sì, stai iniziando, Emily Mi sono bene Il tuo onigiri è stato fatto la scuola, Giacomo Il l'attacco è stato un po' più tempo Scusate. Scusate. Cosa stai qui? Bisogna prendere un rastro, altrimenti saranno tutti gorghi. Non mi pensi che dovrai chiedere Nido per sempre. Mi fa difficile per me seguire. Non preoccuparti. Non mi intendo che ci sia. I promise, one of these days we're going to take our freedom back, and I mean all of us, together. Yeah, I like the sound of that. I have no idea what I'd do without you guys. Okay, let's do something. Okay, let's do something. Un attimo. Questo è completo, questo è completo che ogni volta vediti controllo perché me dimentico. Okay. Questo non può essere evitato. Questo non può essere evitato. Aspetta, quindi dobbiamo tornare indietro? Guarda, guarda, questo sarà il prossimo. No, questo sarà il prossimo. Questo li sto per evitare. Ci vedo che ricordo di un codice sanguigno che ancora non ho sbloccato. Allora, direi andare passo passo. Allora, scambia, ricevi oggetti. Da lì posso prendere l'induttore rigenerativo. Concedo da Icor non mi serve. Poi ci sono questi. I segni. Cora non ho prometto. Mi diventerà molto precioso. Riturno nel peso. Riturno nel peso. Libri in giallito. Sappiamo che il libro in giallito... ...piace... ...a Lewis. E poi... ...i fumetti. Vediamo se abbiamo fumetti. Fumetti sbiaditi. E glielo diamo. E poi mi parla... Il panino Oden è pomodoro. Ho visto che piace a tanti. E poi... ...è nemmo da Iacumo. Che è? Qui! Ovviamente cercheremo subito l'arma. E poi... ...andremo a cercare poi queste... ...queste cose ce li ho, quindi non è... ...non penso che mi serva. Molto l'arma. Allora... ...prendi un vecchiato. ... ... ... ... ... ... ... ... E' ben invecchiato e io ho tirato tutto a lui Poi Gli piace la bambola Vediamo se è questa Sì, perfetto Poi Gli piace molto Il sacchè Il sacchè non l'abbiamo Il resto Che sarebbe il formaggio fragante I bonbon Il vinile antico e per termomodificate E la bambina 35 mm Gli da 3 punti Quindi direi Di passare ad altro Lei ha il coltello Luce chimica Ah, pure lei ha l'arma D'all'arma a disposizione Questo prega Allora, dai oggetti di valore Allora, a lei piace la bandiera souvenir? Poi Poi anche a lei piace il panino Oden e pomodoro Il resto dà soltanto 3 punti Che sarebbero il sapone Il bonbon E il profumo Ah, ma il sacchè io ce l'ho Oh, ma è andato Il sacchè i Epposso Epposso Il sapchè D'all'arma a lei Ah, ma è andato Il sacchè il Allora, poi c'è Coco Ma quanto ho potuto il panino del pomodoro dà 5 punti a tutti L'arma non c'è Quindi potremmo formarci prima con lei Allora Allora, lei dà spezie, erbe aromatiche, il panino e i fiocchi agli e cioccolato Alcuni humani dicono che i Revenanti odiano l'acqua, quindi credo che i falsi rumori possono essere benedifici Ma si tratta di spiegare quasi ogni giorno, un trattamento come questo è una buona medicina per me I'll savor every last bite Allora, lei dà Allora, lei dà Allora 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 la sua spawn allora dopo chi viene abbiamo la nostra meccanica allora scambia lei si può dare gesto elogia e chromefesto quindi l'importante sono 20 punti dagli oggetti allora anche a lei piace la bambola bugralli me l'abbiamo già date ed è l'unico che dà 5 punti poi utensile ha consumato anche lei adora il sapone ma l'abbiamo già dato il bonbon di goccia di sangue già l'abbiamo dato goccia di sangue l'abbiamo dato l'orsetto venire antico e non l'abbiamo neanche parti termomodificate e non l'abbiamo e il profumo ce l'abbiamo non abbiamo altro da darle ok andiamo qua scambia gli segni oggetti lui l'arma non ce la dà questa no fa schia scusa vogliamo i 30 33 punti allora bambola bugralli già dati macchina fotografica sempre macchina fotografica anche a lui piace infiocchiaio e cioccolato il profumo e i bonbon di goccia di sangue formaggio fragan i spazio ho avuto ma il corso no no ma tu guarda man mano che consegni o oggetti puoi riprelevare altro E infatti anche qua sono aumentati gli oggetti Vabbè ma a me non mi interessano questi Mi interessano Mi interessa l'arma soprattutto Oggetti preferiti di mia Dove sei mia? Via E anche lei c'è l'arma E poi queste cose qui Quindi parliamo di 80 punti in totale Quindi siamo ancora a niente Allora a lei piace la bambola bucaralli E no questa è l'altra Eccomi io L'erba aromatica Il sapone, il bombone, il croccio di sangue e il tè fragrante Vieni qua E questo è davvero per me? Grazie Io faccio una volta per te E io lo sapevo proprio bene E io lo sapevo E io lo sapevo No, ovo il ralentano è l'argomento E' davvero più forte Mancano due personaggi che ancora dobbiamo sbloccare Che sono Jack A cui piace la moneta antica Il brand invecchiato La bambola a bucaralli Il formaggio fragante La bombina a 35 mm Il vinile antico Il bombon goccia di sangue E soltanto i primi tre danno 5 punti Mentre gli oggetti preferiti di Eva Che Eva è qui Ma non possiamo scambiare nulla Ancora Minuto della gesh Il sapone, poi i nodi nel pomodoro I semi Il vinile antico e il profumo Eh beh Eh beh Tuo vita dipende Se vuoi Ho capito Cosa posso comprare Tanto non la uso sta roba qui Unica che uso Unica che uso Ma non so quanto mi conviene un gaseo di livello Unica che uso Va bene ragazzi Che dite Una volta che ci siamo Andiamo avanti o Forse la cosa la lasciamo così La dedichiamo soltanto ai doni E ci vediamo la prossima volta dai Facciamo così Allora questo giro vi saluto Grazie